Massimo Cinque, tu sei rimasto qui? Io sì, io sono qui, finché non mi mandi via io rimango qui. Ci dobbiamo inventare una cosa perché c'è lo stacchetto da fare, come facciamo? Rumble, 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 rumble. Aspetta, io giro intorno alle gira. Allora, facciamo così, adesso faccio che ti presento e tu anche se stai qua fai l'entrata, ok? Eccomi, guarda, pronto. Ecco a voi Messer Massimo Cinque! Cazza Marcello Knight Vedi, ci vediamo da un po' però... No, è venuta perfetta. Perfetta, perfetta. È la migliore che abbiamo fatto. Caro Massimo, hai avuto tempo di riflettere, di parlare, di scrivere? Ho avuto un'ispirazione, questa volta, datami da Nicolas Cage. Uè, 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 uè. Nicolas Cage su Netflix sta facendo, ha fatto, ha inciso due puntate di una serie intitolata Le Parolacce. Uè, attenzione. Ed è la storia delle parolacce inglesi. Devo dire che è una cosa originale, che mi ha toccato nel vivo, come dire, tracte! Mi ha toccato, tant'è che ho detto, ma scusate, ma perché? Noi italiani siamo i minori degli inglesi sulle parolacce. Scusa. E noi romani siamo i migliori degli italiani, perché la capitale d'Italia è Roma, ma anche la capitale delle parolacce è Roma. No, perché c'è Nello, Pepe, che fa le facce, perché c'è che Napoli... Scusa, Nello, sei il maestro cinque, dice che Roma è Roma. Le parolacce romane poi sono, hanno emigrato, si sono sparse per tutto lo stivale. Sono arrivate a Napoli, sono arrivate a Palermo, a Milano, a Venezia, a Torino, ovunque. Però partono da qui, e partono così, guarda. Ma li portò? Ma vedi, chissà, li vede, ne lo faccherò. Ma che te possino ammazzate? Ma che fine hai fatto? Sto grande fregnacciaro, che altro non sei? Ma che piacere mi fa rivederte tanzi tua. Saranno ormai da 6-7 anni che non si vediamo. Certo, ammazzate, come ti sei ridotto. Però no, mica stai tanto male. Ma che cazzo hai combinato tutto sto tempo, stronzassimo che non sei altro. Certo che ne abbiamo combinato insieme. Vabbè, ora me ne devo andare. Oh, ma ha fatto tanto piacere, li vedete. Ma te la pia in quel posto dove non si vedeva iersore, ammazzate. Ciao. Ecco, questo è un tipico modo in cui due amici, che non si vedono da un po' di tempo, si salutano, incontrandosi in strada a Roma. Roma, oltre ad essere capitale d'Italia, è anche la capitale della parolaccia. L'abbiamo detto poc'anzi. E che ne dica nello pacchere. A Roma la parolaccia può essere un'ingiulia. Ma anche più spesso una forma di simpatia, di tenerezza. Spesso se qualcuno mi fa un complimento... Marcello, prova a farmi un complimento. In italiano senza parolaccia? In italiano senza parolaccia. Sei veramente un grandissimo artista. Ma non fa un culo. Ecco, questo senso è un tenero vaffanculo. Non è un vaffanculo ingiulioso. Ma tutto sommato perché io sono intimidito da questo complimento che ti mi hai fatto. La parolaccia d'altronde ha una storia antica. Pensate che nella chiesa di San Clemente a Roma vi è raffigurata una vignetta nella quale Sisigno, rivolgendosi ai suoi servi che stanno trascinando San Clemente, dice Fili di pute, traite, figli di puttana di rade. Stiamo intorno all'anno 1000. Oh, altra citazione. Dante Alighieri, diciottesimo canto dell'inferno. E mentre che io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo si di merda lordo che non pareva se era laico o cherco. Cioè, era talmente sporco di cacca in testa che non si riusciva a capire se aveva la tonsura del frate oppure se erano capelli. Al termine, non finisce qui, al termine del ventunesimo canto, Barbariccia risponde ai diavoli Ed egli avea del cul fece trombetta. Bravissimo, vedi, questa ce la ricordiamo tutti. In pratica aveva emesso dei rumori un po' sconci. Ma Dante non lesi una parolaccia anche negli altri canti, nel Purgatorio, addirittura nel Paradiso. Ti ricordi Roberto Benigni in Fantastico del 91? Come no? Quando giocava con le parti intime di Raffaella Carrà. Evidentemente Benigni è un conoscitore del Belli. Giuseppe Gioacchino Belli. Sentite qua. Chi vo chiede la monna a Caterina per far sentenne dalla gente dotta, gli toccherebbe a di burba, vaccina e da giù con la cunna e con la potta. Ma no altri fiacci di mignotta, di moscella, patacca, passerina, fessa, spacco, fissura, buscia, grotta, fregna, figa, sciapatta, chitarrina, sorca, paschetta, fodero, frittella, ciscia, sporta, perucca, barbelosa, chiavica, cattarola, finestrella, fischiarola, quel fatto, quella cosa, urinale, fracoscio, ciumachella, la gabbia del pepino e la brodosa. E si voi la scimosa, chi la chiama vergogna e chi natura, chi ciuffega, tagliola e sepportura. Attenzione però, caro Marcello, Giuseppe Gioacchino Belli era già parità di genere, quindi scrisse anche per gli uomini, per i maschietti. Per lui? E il cazzo, se può dire radica, uscello, ciscio, nerbo, tortore, pennarolo, pezzo de carne, manico, cedrola, sperce, cucuzzola e stenarello, cavicchio, canaletto e chiavistello, il gionco, il guercio, il mio, il nerchia, pirolo, attaccapanni, moccolo, brugnolo, inguilla, torciorecchio e manganello, seppa, batocco, cavolo e turaccio, maritozzo, cannello e pipipino, e salame, sarsiccia e sanguinaccio. Poi scafaga, nucchiale, arma, bambino, poi torso, crescimallo, catenaccio, mannole e mio fratello piccinino. E te lascio persino che il mio dottore lo chiama Cotale, fallo, asta, verga e membro naturale. Quel vecchio despeziale di Scepriapo è la sua moglie pene, segno per Dio che non gli torna bene. Belli l'ha composto nel 1832. Io se potessi ti abbraccerei fino a stritolarti, fantastico.